Perché la statistica? Perché la statistica è importante. La statistica ci aiuta a capire, ci aiuta a comprendere. Noi possiamo pensare a un triangolo che alla base ha i dati. Se noi guardiamo i dati è come leggere un elenco telefonico, tutti i nomi, tutti i numeri, ma sono incomprensibili, non riusciamo a tirarne fuori una sintesi. Ma se noi i dati li trasformiamo attraverso la statistica in informazioni, allora questi dati che sono più sintetici e più aggregati ci aiutano a capire meglio il fenomeno. E se questa informazione noi utilizzando ancora la statistica la riusciamo a trasformare in conoscenza, allora la conoscenza è la base sulla quale noi possiamo costruire le nostre decisioni a tutti i livelli. Decisioni che possono essere decisioni politiche, quindi dati ad esempio della contabilità nazionale come il PIL, come il deficit, come tutti i conti trimestrali dello Stato che servono per decidere, servono al politico, al governo per prendere decisioni. Oppure possono servire a un'azienda, un'azienda che deve decidere se investire in un determinato campo oppure in un altro. Ha bisogno di dati, ma i dati non sono sufficienti. Ha bisogno di informazioni, ma anche l'informazione non è sufficiente. Ha bisogno di conoscere un fenomeno. Per questo la statistica è un formidabile strumento di conoscenza. Ma anche nella nostra vita quotidiana, quando dobbiamo prendere delle decisioni su come investire i nostri risparmi, se affidarli ad una banca, se investirli in delle quote, in delle obbligazioni, ovviamente dobbiamo conoscere il fenomeno, dobbiamo conoscere la realtà che ci circonda. E per conoscere la realtà che ci circonda abbiamo uno strumento fondamentale, uno strumento che ci aiuta nella nostra vita, che è la statistica.